sono bloccato in mezzo a voi help perché better safe than safe premi e aspetta come ci si sbloccava la e dovrebbe essere ok ok siamo pronti sto salendo e qui dipende cosa volete fare ce la vogliamo giocare normale o scendiamo subito giù dalla scala ormai ci fidiamo di lei dato che abbia visto che facciamo bene aspetta e si conviene buttarsi giù sai io premo no voglia e vabbè ma io non ce la posso fare chi è che ha fatto lo spray r pronti a destra perfetto ma io non ci credo dai l'ho anche sentito e l'ho meleggiato e l'ho fatto esplodere davanti a voi ma porca no smoker è andata nonostante tutto non malissimo poteva andare molto peggio e noi dobbiamo fare molto peggio cioè dobbiamo massacrarli no spitter ma basta il tonzolo quanti sono non mi picchi lei come no ho tirato più colpi a corvo che agli zoom si di quell'altro mi hai tolto 30 di vita via via di là via di là ok saltiamo da qua ce la facciamo non ce la trovai ce l'ho fatta giochi attenzione venite venite però se attraversiamo e poi torniamo indietro che senso ha andiamo avanti c'era un boomer la è vero le hanno tolte noi non sono più aggiornato da mesi oh è un macete yeah no smoker arrivo 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 sparate a me ok lasciatelo lì lasciatelo lì lasciatelo lì perché si chiara liberare gli otto b mi è passata davanti fra gli ho sparato 12 colpi sulla scuola si non si preoccupa per me ho conto che era lui poi cosa c'è niente un cazzo di niente pronta le porte lo smoker che ha sputato contro la porta uh c'è il no 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 lasciami la bile prendete la bile qualcuno che prenda la bile qualcuno che prenda la bamba dell'album e c'è lo smoker e vabbè però non ha sputato però meno male andiamo lì ci sono le munizioni beckenbauer quelle infocate prendila tu e io ho il medico occhio oh madonna quanti sono le sto caricando qualcuno mi popra ah giochi 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 ok buona ole ah è morto sì dove dobbiamo andare no c'è una molotov ma se volete prendo io attenzione in fretta che aspetta mazza da baseball dove la moto è lì sull'olio l'olio arrivo andiamo charger charger c'è lo smoker lì guardalo lì guarda il boomer un kamikaze charger ah mi ha preso in fiamme ti ha preso guarda lo smoker lasciate lo smoker lì dietro a fare non so cosa io sono messo malino vuole parlarti no 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 vabbè ce la posso ancora fare dai se avete pastiglie pastoglie eh no pastoglie ma ha preso me come ha fatto a prendere me che ero lontanissimo non lo so perché io ero accanto a te perché hai detto pastoglie infatti hai detto che cazzo dici vieni qui hunter madonna mi ha dato un sacco di vita entriamo dentro e curiamoci tutto qua ci sono le munizioni qui volentieri se riesco ad arrivarci e pillolonsi anche perfetto no non ci sono le munizioni ah si qua eccole qua mi cura sana dove sono veloci che se arrivano infatti lo smitter ho però chiuso la porta in tempo attenzione li avevo chiusi in faccia ha picchiato anche un po' il naso ma no ma no boomer da dove grazie che mi hai fatto con scudo non mi ha neanche preso eh io si mi stanno massacrando no giochi giochi grazie prego prego c'è la smitter via da lì via da lì corvo salta sui mobili tenetevi perché oh dio 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 curatevi curatevi veloci velocissimi vi ho già curato via via ah no via che versi che fa ok via ecco è Biggie Langston è Biggie Langston no no smoker 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 eh ma da qua non gli arriva neanche mezzo colpo che è morto esatto vieni vieni qua vieni qua tanto ha bel tempo vieni vieni boomer boomer eh vaffa vai tutti dentro dai 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 venite veloci permesso alelai 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 alea boom boom scovi scovi due scovi 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 anche mamma mia il mitico toglie d'episcopo l'eroe del nostro te lo ricordi ok sci boh li giochi 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 mamma mia è bello ricordarlo perché mi ricordano la non mia infanzia per fortuna esatto vediamo dei ricordi di infanzia di altra gente anche un po brutti tra l'altro no via di qua via di qua scendiamo subito con quei capelli un po alla droopy 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 ah no droopy droopy due no ho anche un po alla sciarpi volendo faccio partire non so chi sia non chiedo faccio partire no aspetti mi liberi dal cha abbia pazienza grazie ok pronti no che volete volete correte subito dove dove no dovete correre dritto dritto se non ce la facciamo aspetta ecco lo sapevo vai andate andate ho tirato la ho lanciato una una pile dall'altra parte rispetto a noi quindi corriamo vai è l'unico modo qua io ho ancora una pipe anch'io eh tirala 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 uno di voi la tiri aspetta dietro ma no tutte due ma no tutte due ma uno vabbè vabbè copritemi copritemi occhio all'ospite no smoker hunter smoker a parte che mi ha cioè non è vero che non mi sono curato ho una due di vita hunter 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 no dia hanno occhio eh sono caduto io eh ho visto e io mi devo curare se non cado anch'io è la fine devo curarmi se non cado no non ce la faccio non ce la faccio cado cado no smoker ah ti ho fregato smoker eh mi ha preso eh sono caduto arrivo 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 niente ok vai aiuto aiuto veloci arrivo eh non secondo sto tirando su il mondo merda ah cazzo stai cattivo stai ricadendo eh sono caduto in occhio hai notte siamo nel no corvo siamo nelle tue mani meleggia meleggia c'è traffico c'è traffico c'è un po' di traffico eh no è andato è andato no e siamo morti miseramente quasi alla fine di nuovo quel corridoio non l'avrei mai fatto eh no ma era non lo so era ah che palle quella è proprio la parte più difficile secondo me dell'intero gioco no ma sai cosa qua se vuoi lasciare un po' non devi fermarti mai noi invece ci fermiamo per raccoglierci quindi vabbè sì no ma infatti secondo me è meglio così perché se ce la fai con tutti è anche meglio cosa faccio io che so spitonzo cosa mi consigli no senti non li aspettiamo sul tetto aspettiamoli qua dietro così li prendiamo tutti insieme l'hai detto con un piemontesino l'hai detto aspettiamoli qua dietro l'hai detto vabbè io provo tra l'altro qua 3 su 4 siamo di Torino no no dovete venire tu esatto ah no te sei di Torino no io io te e Karim ah ho sentito 4 su 4 ho sentito no 3 su 4 ah ok anch'io ho sentito 4 perché lo smockere lì? dove cazzo io dovevo andare? dove siamo noi? ah ok dove stiamo saltando? non mi trovavo più scusa metto qui metto qui metto qui eh però mi metto dove cazzo mi metto? aspetta attacco prima io anche a fallimento e voi partite e fate casiro ok vai tanto me leggeranno non riuscirò a bagnare nessuno non è vero li bagno tutti no vai vai partite no non mi faccio ah si ho preso l'unico tiè beccala qua bella perfetto bravissimo hai preso l'unico non vomitato tra l'altro e l'altro l'ho portato la spittanza fermalo lì perfetto e diciamo che l'ho fatto apposto buonasera mettetevi sulla tannica che se esplode la tannica muoiono tutti bella tanto Mora è morto è esplosa la tannica no non è esplosa no han tirato la pipe subito c'erano la pipe non ha niente di vita Mora Mora è a terra non lo so forse c'era una pipe lì e non l'abbiamo vista mai no no probabile ma non si sono fatti niente beh oddio Mora è quasi morto l'ho ripreso volevo ucciderlo Mora doveva morire lì morire doveva morire Mora esatto no dove sono andato dove siamo andati noi no l'ho mancato miseramente andati tutti davanti che così ci superano buono bravo ma no come hai fatto a mollarsi olè bravo olè olè vai boomer vai boomer più avanti più avanti più avanti no più avanti ma non li prenderai eh te l'ho detto più avanti te l'ho detto me l'hai detto che avevo già premuto eh ma tra l'altro sapevo che da lì guardi con che cattiveria lo meleggiano guardi con che cattivi non ce la si prende così no 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 infatti non ce la si prende così l'ho preso spero di avergli fatto 7000 ad anni è infatti a terra perfetto andando a scatti tra l'altro me la prendo per un attimo no c'è quiete cosa succede? non possiamo stavamo urlando come dei deficienti no silenzio mi sono ripassate le orecchie vieni con me palmiro eh ma sei proprio merda ti farò vedere le pagine le pagine ma l'abbiamo già usata vieni con me palmiro e c'è una intera puntata che si chiama così buono possiamo cantare ne altre sono pieno di queste canzone anche un zombie lei mi disse se non sono quelli vai più giù che sono più belle ma è va bene eh vuo vuo partiamo anche con le osterie se andiamo avanti eh i fatti provo una spittata d'autore no non posso la spittata d'autore ha chiuso la porta ha chiuso la porta aspetta ti provo ti provo con un buco si è aspetta aspetta andiamogli io faccio casino tu gli sputi così lo distrai vai vai beh ma se l'ho preso proprio l'hai proprio preso ma se ne sono dimenticati di moro nessuno lo ama nessuno lo salva mai buonasera salve 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 sono il boomer ma no non volevo prendere di nuovo e via così e via così ah però l'ho liberato cazzo eh non importa uno di loro è già morto eh Luke è morto eh sì è stata una bella spittata smokerata prima con il hot benvenuti nel cervello l4d2 dell'as clan z una squadra di calcio as turino e lo riprendiamo moro così che roba brutta niente non lo lascio non c'hanno più voglia di starci dietro buone cari ma corvo prendi uno io prendo l'altro eh con lo spitter sei tu che devi prenderne uno ah no e chi è il sior uuuh l'ha preso a volo mamma io penso che neanche se avessi deciso di farla una cosa del genere mamma mi l'ho visto con le sagomine tutto da distanze siderali non ci arriva mai no guarda che glielo rubo adesso Francesco no no glielo rubo perché ho paura ti tiro i pugni ti tiro i pugni anch'io e vengo anch'io arrivo buonasera Larissa non fa tanto birile ma lo graffio non la sta passando eh vabbè yeee tanto della gioia oh madonna ah qui li abbiamo doppiati con i punti grazie a tutti